L'ago aspirato con l'ago sottile della tiroide viene seguito solo per lesioni presunte neoplastiche sia l'esame fisico che l'ecografia sono obbligatorie per porre indicazione all'esame L'opzione migliore è quella di utilizzare un ecografo Doppler con sonda lineare da 7,5 MHz in su. Nelle aree remote anche un ecografo da 3,5 MHz può essere di aiuto, indipendentemente dal tipo di sonda, a condizione che la distanza tra la sonda e la pelle venga aumentata attraverso l'interposizione di una sacca di gel. I noduli solitari o multipli sono presumibilmente neoplastici quando siano solidi e abbiano un diametro maggiore di oltre un centimetro. Questa presunzione è rafforzata da 1. Forma asimmetrica 2. Microcalcificazioni 3. Bordi irregolari o spiculari 4. Invasione capsulare. L'ago aspirato può abbastanza frequentemente dare reazioni avverse come 1. Bradicardia e ipotensione 2. Sanguinamento 3. Singhiozzo a causa della puntura accidentale del nervo frenico 4. Voce bitonale a causa di puntura accidentale del nervo ricorrente come strumenti sono necessari 1. Una siringa monouso da 20 millilitri 2. Un ago calibro 22 gauge con punta a lancia 3. Tre nuovi vetrini 4. Un contenitore di plastica per la spedizione di campioni 5. Alcol al 95% come fissativo, liquido o spray 6. Un porta siringa a pistola per consentire all'operatore di aspirare il campione con una mano. La siringa si innesta e disinnesta sul porta siringa in questo modo. Se non fosse disponibile un porta siringhe ci sono due alternative. La prima è quella di realizzare uno strumento artigianale con un tubo di plastica per iniezione endovenosa. In questo caso per il campionamento l'aspirazione è ancora necessaria. La seconda è quella di campionare per capillarità senza aspirazione. Per il campionamento la guida ecografica è obbligatoria quando i noduli non siano palpabili a causa delle piccole dimensioni o della posizione troppo profonda. Non c'è bisogno di anestesia locale. Dopo aver disinfettato la pelle la mano dominante dell'operatore afferra il porta siringhe. L'altra mano blocca e immobilizza il nodulo tra il dito indice ed il medio. L'operatore inserisce l'ago nella lesione con un angolo di 65-70 gradi rispetto al piano dell'acute in direzione craniocaudale. Non appena l'operatore è sicuro che la punta dell'ago si trovi approssimatamente nel mezzo della lesione inizia ad aspirare tirando verso l'alto lo stantuffo della siringa. Mentre l'aspirazione viene mantenuta costante l'ago si muove avanti e indietro di circa 4-8 mm cambiando ogni volta l'inclinazione sul piano cutaneo. Nel frattempo la mano ruota due volte in senso orario e ritorna nella posizione di partenza. Dopo 5 o 6 volte il movimento viene interrotto. Mentre la punta dell'ago è ancora nel nodo lo stantuffo viene rilasciato. Subito dopo l'ago viene estratto. Se la siringa esce piena di sangue il che impedirebbe l'interpretazione del test citologico è meglio scartare il campione e prelevarne un altro. Se il porta siringhe non fosse disponibile la stessa manovra richiede l'aiuto di un secondo operatore. Il primo operatore guida l'ago mentre il secondo tira verso l'alto lo stantuffo all'inizio e rilascia l'aspirazione alla fine. Un altro modo di procedere è il campionamento per capillarità. In questo caso non sono necessari né il porta siringa né l'aspirazione. Un singolo operatore impugna un ago tra il pollice e l'indice della mano dominante. Con l'altra mano immobilizza il nodulo da aspirare. L'ago penetra nella lesione come descritto in precedenza e prosegue con lo stesso movimento avanti e indietro. Alcuni frammenti di tessuto entrano nel lago per capillarità. Alla fine l'ago viene rimosso dalla lesione. Se il campionamento è stato effettuato tramite aspirazione l'ago viene temporaneamente disconnesso dalla siringa. In questo momento abbiamo alcuni frammenti all'interno dell'ago e alcuni nel corpo principale della siringa. Innanzitutto l'operatore fa uscire qualche frammento attraverso il foro posteriore del lago sul vetrino. Quindi aspira 5-10 millilitri di aria nella siringa e spruzza il campione raccolto nella siringa sopra il vetrino spingendo rapidamente lo stantuffo. In un terzo momento nella siringa vengono aspirati altri 5-10 millilitri di aria. L'ago viene nuovamente inserito e lo stantuffo premuto verso il basso. In questo modo il campione rimasto nel lago viene sparso sul vetrino. Se l'operatore si rende conto che c'è ancora del materiale all'interno del corpo principale della siringa il ciclo viene ripetuto su un altro vetrino nuovo. Se il campionamento è stato effettuato per capillarità l'unica manovra consiste nell'aspirare 5-10 millilitri di aria in una nuova siringa, inserire l'ago e forzare l'uscita del campione dall'interno del lago spingendo rapidamente lo stantuffo. Se la quantità di campione su un vetrino fosse eccessiva essa può essere ridistribuita in parte su un altro vetrino in questo modo. Ci sono due manovre per strisciare il materiale. Uno, con due vetrini disponibili e il campione abbastanza liquido lo striscio viene eseguito applicando un vetrino sull'altro. Due, se il campione fosse solido viene strisciato facendo uso di un secondo vetrino nuovo. Il fissativo dovrebbe rimanere pronto sul tavolo poiché la fissazione non deve essere ritardata. L'operatore impugna il fissativo spray e lo spruzza sui vetrini per 3 o 4 secondi da una distanza minima di 25 cm. Entro circa 10 minuti il prodotto si asciuga e successivamente il campione è pronto per essere spedito. Se il fissativo in spray non fosse disponibile l'alcol liquido al 95% è conservato in una bottiglia chiusa per evitare l'evaporazione. Il vetrino con il materiale strisciato è immerso nel fissativo per alcuni secondi. Quindi viene ritirato, asciugato sul lato inferiore e posto ad asciugare sul tavolo per altri 5 minuti. Quando è fissato il campione viene messo in un contenitore asciutto e poi sigillato. Un'etichetta è adesa saldamente al lato del flacone. Li sono riportati il nome, il cognome e la data di nascita del paziente, la data del campionamento, il tipo e la posizione del campionamento, il diametro della lesione. Quindi il flacone viene spedito con l'indirizzo alla destinazione finale. Per effertare la citologia tiroidea è utilizzata la classificazione di HY. Il materiale risale, in effetti, come hai visto, è vero. Però deve essere un materiale un po' semiliquido, come spesso è sui perlieri della tiroide, perché hai il sangue che lo rende liquido. Sulla roba solida si stacca con maggiore difficoltà.